Dal tumore al seno si guarisce sempre di più, ma per le donne operate emergono nuovi problemi relativi agli effetti collaterali delle cure oncologiche. Per questo è nato il progetto EVA, presentato dall'assessore regionale Stefania Saccardi e messo a punto e finanziato dall'associazione Corri la Vita in collaborazione con l'ILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori sezione di Firenze. In questa prima fase di durata triennale il progetto prevede l'apertura di ambulatori gratuiti complementari ai servizi dell'azienda sanitaria Toscana Centro, nei centri di senologia già in funzione a Firenze, Prato, Empoli e Pistoia. Si tratta di tutte quelle conseguenze che arrivano a seguito del tumore al seno e della cura del tumore al seno, che vanno dalla menopausa precoce molto spesso, alle tematiche delle indagini genetiche che riguardano appunto la famiglia, fino a tutta una serie di altri aspetti all'osteocorosi che hanno comunque bisogno di una presa in carico e di una risposta sul territorio. Entro la fine del 2018 ci si aspettano quasi 3500 nuovi casi di tumore al seno, patologia che rappresenta il 30% delle diagnosi oncologiche per le donne e che in media riguarda una donna su otto. Prima di tutto noi vogliamo dimostrare in maniera tangibile dove mettiamo i nostri denari raccolti e sotto ispirazione dell'oncologo professor Di Leo e il nostro professor Marco Rosselli del Turco, noi vogliamo aiutare le donne in questo preciso modo con il progetto EVA, perché le donne oggi per fortuna si guarisce sempre di più dal tumore, ma ora dobbiamo assicurare una cura anche per quelle che sono le conseguenze delle cure, cioè la conseguenza dell'oncologia è ovviamente molto forte. Le donne guidate dal loro medico curante potranno essere assistite da specialisti sulla base delle singole necessità. Stimiamo che grazie a questo servizio circa un migliaio di donne all'anno potranno avvalersi di questi servizi ambulatoriali e tenete conto che questi sono servizi importanti perché sono destinati a impattare in maniera estremamente favorevole sulla qualità di vita di queste donne. L'ospedale di Careggi collabora al progetto come centro di riferimento per la fertilità.